Nella mattinata odierna i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Foggia hanno dato esecuzione a quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere per Paolo Palumbo, Pierpaolo Di Monte e Luca Dorisio, Stefano Visconti e di tre ordinanze di misure cautelari e gli arresti domiciliari per Tonti, Dario, Massimo Marinaccio e Sara Borelli. Per tutti l'accusa è di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le misure sono state emesse dal GIP del Tribunale di Foggia a seguito di specifica attività di indagine svolta dai carabinieri nei primi mesi del 2015 e diretta dalla Procura della Repubblica e finalizzata a contrastare il fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti nell'area pubblica antistante alla piazza Padre Pio a Foggia. L'indagine ha permesso di verificare infatti un movimento anomalo di giovani nella piazza e lo svolgimento da parte di diversi soggetti di un'attività di spaccio. Arrestati in flagranza di reato, cinque indagati con il rinvenimento e sequestro di numerosi dosi di stupefacenti del tipo di marijuana, ascice e cocaina per un complessivo recupero di più di 100 grammi di sostanza. La piazza cittadina era luogo di abituale spaccio di stupefacenti, le cessioni avvenivano sempre in zone appartate e in orario serale spesso precedute da una fase di contatto con l'acquirente. Gli indagati non hanno esitato a seguito degli arresti operati, una volta rimessi in libertà, a riprendere la loro attività usuale, incuranti delle conseguenze penali dell'attività illecita svolta. Gli episodi di spaccio contestati nel corso dell'attività sono stati complessivamente 225.